Ho promesso al mio amico di Bologna che avrei fatto un video in relazione ai cosiddetti buchi neri che esistono nell'universo e sono al centro delle rispettive galassie ognuna delle quali ne ha uno. Ora bisogna cercare di capire che cosa siano in sostanza questi buchi neri. Noi abbiamo uno zero, ossia una dimensione che manca. La quale dimensione che si evidenzia a un certo punto attraverso uno sbilanciamento che quando esiste non sbilanciato tra un numeratore e il denominatore che è uguale e dunque è uno si presenta in una condizione sintetica in cui originariamente proprio manca ogni cosa e siamo al principio, alla origine che appaia attraverso lo sbilanciamento tra numeratore e denominatore. Intanto bisogna capire che se questo sbilanciamento esiste, esiste solo perché l'unità si è divisa in due opposti sbilanciamenti. Da una parte c'è uno sbilanciamento del tipo n su 1 perché dalla parte opposta c'è lo sbilanciamento di 1 su n. Ecco, ora quando siamo all'origine di questo fenomeno di divisione in due contrapposti sbilanciamenti abbiamo quella apparenza di origine da cui tutto sembra uscire, proprio come da un miracolo in cui dove non c'era nulla poi appare poco alla volta cominciare a esistere un insieme di cose, oggetti che nel loro apparente divenire si ammassano, poi creano sistemi di corpi che sono stelle, che sono pianeti e che ammassano l'energia in quel modo caldo che si vede quando tutta l'energia si è ammassata. Accade in sostanza quello che può accadere in ogni punto di vuoto tra le stelle. Quel vuoto che sembra una dimensione zero che non esiste è solo perché in quel punto il rapporto n su n è proprio uno su uno il che lo rimanda a un virtuale zero su zero perché tutto ciò che esiste proprio come uno lo è perché è in potenza di zero. Ora capita la origine io per renderla più facilmente comprensibile devo rimandarla a un vettore. Un vettore immaginatelo come una freccia. Quando la freccia punta su di voi nella punta presenta una forza di attrazione magnetica. Quando voi ne vedete la luce di quell'elettromagnetismo è perché la freccia non sta puntando su di voi ma nel lato opposto e allora la visione del retro della freccia è la visione elettrica luminosa mentre invece la forza che esiste sulla punta è una forza di attrazione magnetica. Ora la prima consistenza che nasce in quel punto zero è proprio una espressione lineare di una freccia che punta decisamente in avanti e che mostra soltanto attrazione magnetica e non mostra minimamente luce perché la visione della luce è dall'altra parte del buco nero. Non è che il buco nero attragga con tanta forza che nemmeno la luce riesce a uscire. Non è così. È che nel buco nero proprio nell'origine la freccia è proprio collocata come una freccia e ce ne sono tante una di fianco all'altra che sono talmente accostate tra di loro che praticamente abbiamo un unico. Ora quando noi vediamo venire verso di noi la luce espressa in forma corpuscolare come un elettrone che è l'ammassamento della luce che avanza noi questo elettrone corporeo lo vediamo corporeo perché è composto di sei fotoni. Ognuno esiste nel verso suo caratteristico e quando tutti e sei i versi hanno un fotone l'equilibrio che si genera nell'insieme verso l'esterno come luce è verso l'interno l'ammassamento la forza di ammassamento che porta quell'insieme di sei elettroni ad apparire come un corpo ma l'elettrone che avanza quando è fotografato su una bolla elettrostatica che resta visibile per un tempo molto più lungo di quanto sia l'avanzamento della particella presenta nella prospettiva di un avanzamento proprio che parta da un punto di fuga mostra l'andamento a spirale perché a mano a mano che il soggetto parte dal fondo e avanza non solo avanza in senso dal profondo in avanti ma anche gira la composizione di questo avanzamento che a mano a mano che viene dal profondo sembra più grande per questione di prospettiva denota la forma di una spirale nel sistema macroscopico composto dalle galassie che virtualmente escono tutte quante da quel punto che è il buco nero con la loro forza magnetica è tale che in genera anche nella maggior parte delle galassie la stessa forma a spirale che è presente in un singolo elettrone quando memorizza la sua storia su una bolla elettrostatica la antiparticella quando fu vista su una bolla elettrostatica aveva come caratteristica una opposta derivazione immaginando per esempio che sia ad estrorso la crescita in forma di spirale l'antiparticella aveva una crescita non in senso orario ma in senso anti orario il che visto che noi stavamo osservando la prospettiva era chiaramente la prospettiva di qualcosa che aveva un verso di percorrenza opposto a quell'altro uno dei due parte dal punto di fuga e a mano a mano che avanza si allarga e la traccia che ne rimane è una spirale l'altro parte dal davanti e va a fuga tanto che parte largo poi la spirale si chiude fino a che raggiunto il punto di fuga della distanza non si vede più in questo particella e antiparticella si differenziano proprio nel verso uno avanza l'altro retrocede ora dobbiamo immaginare che nel punto iniziale in cui parte l'uscita da questo punto zero centro ideale della del buco nero ci sia non un andamento a spirale ossia non una rototraslazione vista ruotare mentre si avanza perché l'orientamento è tale che non esiste uno spazio di rotazione è solo una pura traslazione in avanti e quello che accade normalmente in un atomo con gli elettroni che ruotano attorno al nucleo lì praticamente non ruotano più attorno al nucleo perché questo spazio di rotazione non appare in quanto essendoci solo una freccia puntata in avanti c'è solo la traslazione e non la rotazione questa rotazione comincerà a mano a mano che avanzando si comincia a rendere possibile uno spazio di crescita di un ciclo perché il ciclo all'inizio praticamente non esiste e tutto è puntato in avanti e appare solo come un nucleo che compone atomi talmente accostati tra di loro che il buco nero è un insieme di nuclei e basta tutti ammassati tra di loro ora è chiaro che il buco nero nessuno l'ha visto queste che stiamo cercando di figurare in questo modo sono cose che si deducono attraverso la compressione di come possa essere il fenomeno è chiaro che nel buco nero è tanta la forza di gravità che tutto quanto si possa espandere in larghezza è tutto espresso solo nei due versi avanti dietro e quindi c'è una esaltazione solo di un verso puro che essendo poi nell'atomo quello che amplia l'atomo dato dalla rotazione attorno al nucleo delle particelle questa rotazione praticamente non c'è perché sarebbe uno spazio di espansione dell'atomo con le sue particelle spazio che non c'è proprio perché al centro del buco nero ci sono vettori perfettamente e solo lineari di una pura tralazione e la rotazione inizialmente non esiste a mano a mano che il buco nero in questo avanzamento assume un maggiore spazio di possibile dilatazione comincia anche l'apparente rotazione delle particelle attorno a uno spazio di dilatazione fuori del nucleo che le particelle dimostrano di poter avere ecco che questo fenomeno a mano a mano che avanza si dilata anche e dilatandosi si crea proprio quello che appare in ogni nostra visione quando guardiamo un punto lontano all'orizzonte un punto di fuga perché quando noi guardiamo un punto di fuga sembra che tutte le linee che hanno quel punto di fuga siano linee rette tanto che l'andamento all'improvviso di linee rette che si bloccano in quel punto trovino la loro fine in quel punto ma invece non è così non sono linee rette sono linee che sembrano rette nella nostra vicinanza a mano a mano che noi andiamo verso il punto di fuga esse si incurvano tanto che quando siamo al punto di fuga sono diventate praticamente parallele tra di loro dentro un punto di fuga della nostra visione noi possiamo andare a vedere di tutto se lo ingrandiamo e allora ci accorgeremo che tutte le linee del nostro modo di vedere ridurre le dimensioni in distanza lì arrivati al centro che è il punto di fuga non si distanziano più perché praticamente se noi ingrandiamo quel punto di fuga apparente noi vediamo praticamente l'amplificarsi di linee verso la profondità che sono pressoché parallele tutte quante tra di loro come se fino a che non arriviamo punto di fuga noi abbiamo una ampiezza che appare ridursi quando siamo in vicinanza del punto di fuga queste due linee si curvano in un modo tale che quando sono arrivate proprio al punto di fuga sono in sostanza accostate l'una all'altra ma non in un modo tale che se noi non avviciniamo la visione con uno strumento ottico non possiamo vedere dilatarsi quel punto di fuga all'orizzonte allora cosa succede se noi stiamo vedendo lì a distanza su una linea che può essere una strada in cui c'è una corsa di corridori e ce n'è uno che precede il gruppo che è un chilometro indietro ora immaginiamo che questa nostra visione sia a 10 chilometri di distanza ossia là dove c'è il punto di di fuga di un metro che esista e si veda come un metro alla nostra grandezza del punto di vista di dove siamo poiché quel metro a 10 chilometri di distanza si è ridotto a un punto e poi tutto l'insieme è sempre dentro quel punto quando noi inquadriamo quello che non vedremo a occhio nudo perché questo corridore collocato a 10 chilometri con il gruppo a un chilometro di distanza da lui noi a occhio nudo non lo vediamo ma quando andiamo a ingrandire quel punto di fuga praticamente non c'è più la riduzione di apparente grandezza negli altri e ci sembra ci sembrerà che il corridore che stiamo vedendo nonostante che sia un chilometro più in avanti del gruppo che è dietro per la causa che non esiste più la prospettiva che riconduce a un punto perché tutte le linee sono diventate parallele poiché l'apparente riduzione del gruppo di fondo dipendeva dalla riduzione delle linee poste a distanza ma ora questa riduzione non c'è più sembra proprio che il gruppo che sta dietro al corridore nonostante che sia un chilometro più indietro sia proprio lì attaccato a quel corridore come se ciascuno di quelli del gruppo se allungassero la mano potrebbero acciuffare il corridore che sta davanti ecco noi possiamo avere chiaramente l'immagine del buco nero in questo modo qui quando venendo dal fondo in avanti non ci sono ampiezze che si presentano per una prospettiva che è oltre i 10 chilometri tanto che quelle linee che vanno fuga sono praticamente parallele tra di loro non esiste più alcuna riduzione di grandezza apparente anche se gli oggetti che vengono dopo sono molto più lontani e tutto ci sembrerà ammassato in quel punto ecco noi il buco nero in cui vediamo ammassato tutto in ampiezza e in profondità lo vediamo ammassato proprio per una ragione di reale prospettiva il buco nero si pone nei confronti della visione esterna proprio come si pone un punto di fuga prospettico quando noi lo ingrandiamo nella sua visione è un centro che sembra un centro perché sembra che in quel centro lì si sia poi ammassato di tutto ma non è così se noi lo ingrandiamo vediamo che quell'ammassamento si dirada ma solo con un effetto ottico noi abbiamo che il fronte diventa più ampio non correggeremo mai l'ammassamento che esiste in profondità perché per quanto noi aumentiamo in ampiezza non risulterà mai una distanza tra quanto sia collocato lì e quanto sia collocato molto ma molto più indietro tutto ci sembrerà ammassato e noi avremo l'idea che quel buco nero è talmente ammassato soltanto con tutti i nuclei degli atomi che non si possono espandere nella visione che normalmente abbiamo espansa qui davanti a noi e di conseguenza ci sembreranno proprio come tutti i vettori paralleli tra di loro come tutto quel parallelismo che esiste nel punto di fuga che quando lo andiamo ad allargare lo allargheremo sì in ampiezza però tutte le linee in profondità ci risulteranno tutte perfettamente parallele tra di loro come se la dilatazione in ampiezza non ci fosse minimamente è evidente che tale concentrazione in questo lontano punto di fuga sembra essere la concentrazione anche di tutto della forza di attrazione di ogni cosa e noi questo non lo vedremo perché praticamente da lì puntano sul davanti tutte e solo le frecce che mostrano la punta del magnetismo per avere l'impressione della luce noi dovremmo avere qualche freccia che anziché puntare in questo modo fosse puntata nel modo opposto dovremmo vederla nella coda e non nella punta ma essendosi tutte orientate perfettamente allo stesso modo che mostrano tutte questa punta di una totale attrazione magnetica ecco noi vediamo in sostanza l'apparente creazione che tutto provenga da lì ma quello non è che è un modo di vedere in prospettiva reale quello che è collocato lontano perché come succede che a mano a mano che noi realmente avanziamo nello spazio noi vediamo che tutto quello che prima era in un punto di fuga poi virtualmente si espande e possiamo vederlo espanso allo stesso modo a mano a mano che noi ci avvicinassimo a un punto di fuga potremmo vedere lo stesso fenomeno di una creazione di spazio normale come quello che vediamo ora che esiste ma che non si vede al punto di fuga della grandezza apparente ecco i buchi neri sono proprio lì al punto di fuga della grandezza apparente da cui esce un insieme che poi diventa un sistema galattico insomma quando noi otteniamo che da quella dimensione zero noi andiamo ottenere il ciclo 10 questo ciclo 10 praticamente determina nove punti di espansione i nove punti di espansione diventano nel tempo come se fossero i rispettivi buchi neri di un sistema che ne comprenda diversi nel nostro caso nello schema noi dovremmo invaginarne che se ne compongono nove e poi da ciascuno di questi scaturisce un nuovo sistema rappresentativo che ne tiri fuori altri nove a mano a mano che noi avanziamo nella definizione dello spazio tempo i vari centri da cui poi tutto ricomincia ad apparire perché la visione noi l'abbiamo scomposta da una a nove e ognuno di quei nove diventa un centro di una visione un centro di una espansione che a mano a mano che noi andiamo a vedere i decimi centesimi millesimi eccetera in generano nell'universo tutta una gerarchia di queste presenze e a mano a mano che si crea fondamentalmente una nuova unità dal ciclo 10 ecco che ognuna di queste unità diventa lì il centro di quello che poi si manifesterà espanso da lì come una galassia e il buco nero rimane tale non perché la forza di gravità è tale che impedisce alla luce di uscire ma perché praticamente il tutto si è talmente messo per linee tutte parallele tra di loro e tutte orientate allo stesso modo che noi le vediamo tutte come frecce che escono con la punta da lì e essendo l'aspetto che appare nella punta come qualcosa che noi sentiamo come attrazione magnetica ma non vediamo come quella impressione di luce che appare soltanto quando questi vettori noi non le vediamo nella punta ma nella coda allora poiché tutti quanti questi vettori sono paralleli tra di loro e tutti orientati nello stesso modo tutti in quel modo che presenta solo la trazione magnetica e non la fuga elettrica noi la fuga elettrica non la vedremo ma non perché la trazione sia tale che la elettricità e la luce non possa uscire ma perché in quel punto di fuga accade proprio come nel punto di fuga della nostra visione tutto a occhio nudo si è ridotto un punto un punto nella nostra visione non ha alcuna dimensione ma se noi andiamo a ingrandire questo punto allora otteniamo che mentre dilatiamo la visione orizzontale tutte le linee perpendicolari sono esattamente parallele tra di loro e tutte orientate nello stesso modo tutte orientate con una punta che verso di noi presenta la forza di attrazione magnetica la luce sarebbe vista dall'altra parte del buco nero in cui noi vedremmo il contrario di quello che vediamo qui vedremmo una sorta di grande sole in cui esiste tutto questo quando noi vediamo i vari soli in questa dimensione qui è perché ogni sole in un certo senso è talmente ammassato in questa posizione qui però presenta tutti i vettori che puntano dall'altra parte e ci mostrano la luce e la luce quella del sole schematizza proprio qualcosa che esiste ma che non è così forte come nell'altro limite perché qualunque astro che noi vediamo vicino a noi ha una sua dimensione apparente non si è ridotto ancora a un puro punto di fuga della grandezza apparente e quindi avendo un'immagine espansa dentro di lì ci sono anche le linee di azione secondo quella espansione elettrica che poi ci mostrano l'apparire della luce ecco caro eminio io ti ho detto che cosa è comprensibile dai buchi neri e l'ho fatto proprio perché una volta anche io avevo detto che la forza di gravità nei buchi neri è tanto grande che la luce non riesce uscire non è proprio vero così la luce non riesce a uscire perché tutti i vettori sono veramente in un punto di fuga della grandezza apparente a livello di universo e in quel punto lì tutti i versi che vanno in profondità essendo veramente regati a un punto di fuga quando sono ingranditi mostrano le perpendicolari tutte parallele e tutte orientate nello stesso modo che non fanno vedere la componente elettrica che è nella coda di quei vettori e di conseguenza noi vediamo tutto e solo quell'aspetto che poi ci sembra scuro nero e legato solo ed esclusivamente ha un immenso potere di attrazione magnetica grazie a tutti grazie a tutti